buongiorno ragazzi siamo tornati scusate se prima non avevamo caricato altri video su youtube perché 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 no non è perché ormai è perché non sapevamo cosa potevamo caricare su youtube ma ora siamo tornati siete contenti ragazzi eccoci qua però perché c'erano tutti questi sono noi due rex già che ci facciamo oggi qua a quest'ora è tardi dobbiamo andare a dormire oggi volevo dire che sono arrivati i baraconi davvero sono arrivati i baraconi dici davvero rex certo ci sono state cose buone da mangiare ci sono state caramellate hamburger non vedono di mangiare queste belle delizie certo comunque tanto tu vuoi venirci ok sì comunque ragazzi questo è il nostro ritorno però siete felici che non siamo tornati su youtube vabbè spero se questo video vi sia piaciuto in realtà questo video è pochissimo perché perché sono arrivati i baraconi domani non ci andiamo noi e e dopo ti diremo cosa potete perché c'è tante cose deliziose tante cose da divertirsi e ci sono anche c'è anche il trono fantasma o no il trono fantasma non ci proprio non ci penso neanche e infatti vabbè comunque ragazzi ciao arrivederci ciao